La seduta inaugurale della nuova alua della Camera si tenne il 20 novembre del 1918, poco più di due settimane dopo la fine della Prima Guerra Mondiale, che aveva imposto un altissimo tributo di vite umane e di dolore, mettendo a dura prova la tenuta dello Stato unitario. Nel suo discorso di apertura, il Presidente della Camera, Giuseppe Marcora, sottolinea come, al prezzo delle tragedie e delle distruzioni della guerra, si fosse finalmente compiuto il processo di affermazione dei valori risorgimentali di libertà e di progresso civile. Né Marcora, né Orlando, né deputati presenti avevano percezione in quel momento dell'incombente minaccia fascista. In quest'Aula, il 30 maggio 1924, è risuonata per l'ultima volta la voce coraggiosa di Giacomo Matteotti. Grazie. 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 Grazie.